Un anno di intenso lavoro condensato in numeri, in cifre, in percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I numeri sono numeri, ci dice il prefetto questa mattina in conferenza stampa, nell'annuale appuntamento per fare il punto sullo stato dell'ordine e della sicurezza in provincia di Pesaro Urbino, che a dispetto della sensazione percepita dalla popolazione, mostrano un calo dei reati nella loro globalità rispetto al 2015. Segnando un meno 15%. In particolare i furti in abitazione sono in calo del 21%, i furti con destrezza meno 34% e meno rapine, 6% in meno. Unico segno più sono i reati legati agli stupefacenti con un preoccupante più 23%. Ma qui, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, sta a significare che molti reati sono venuti alla luce grazie all'azione di contrasto delle forze dell'ordine su questo versante. L'attività preventiva deve sempre proseguire in maniera molto penetrante perché i rischi di inserimenti, di infiltrazione o dell'acuirsi di certi fenomeni sono sempre presenti. Però possiamo dire che grazie anche all'attività intensa di controllo del territorio, io ho fornito anche numeri sul numero dei servizi effettuati dalle forze di polizia. E l'attività poi svolta sul fronte della polizia giudiziaria, sotto il coordinamento della magistratura, ci danno un quadro di una presenza sul territorio, di un'attività di prevenzione e di repressione assolutamente efficace. Tra Fano e Pesero quella che sta meglio sul fronte dei reati è senza dubbio Fano, totale dei reati Fano meno 20, Pesero solo meno 12, furti in abitazione Fano meno 31%, Pesero segna un meno 13%, I furti negli esercizi commerciali a Fano meno 7% e Pesero invece segna un preoccupante più 30%. Ma nonostante questo quadro confortante, il percepito tra la gente è influenzato da altri fattori. Le nostre forze di polizia si è rivelata veramente notevole e lo stanno a dimostrare gli ultimi eventi criminosi che dopo pochi giorni hanno visto l'individuazione degli autori dei reati. Quindi credo che si tratti di un complesso di misure e di strutture preposte alla tutela della sicurezza assolutamente efficace ed efficiente. Il segreto di questo quadro sta nella conoscenza, dice il questore. Noi sappiamo e conosciamo chi c'è nelle nostre città e di fatti lo dimostrano, vedi vicenda Bella Napoli. Controllo del territorio, la prevenzione maggiore. La nostra zona non ha radicalizzazioni, la criminalità è pendolare, purtroppo viene e colpisce solo grazie a qualche testa di ponte qui sul luogo. Nessuna infiltrazione mafiosa, nessun racket, aggiunge l'Auriola. Lasciamo da parte le interpretazioni estemporanee dettate dal momento. Il territorio è ampiamente sotto controllo da parte delle forze dell'ordine. E lo dimostrano il volume degli interventi, pensate nel 2016 ben 34.413 in totale, suddivisi naturalmente tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e forestale.